Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Stamboi Guys, vi chiedo già scusa ma qui con me c'è la mia ragazza e ci riproverà di nuovo e vediamo se... Natti guarda, guarda, c'hai già un giro gratis, fatelo e vediamo cosa vinci. Vai. Noi, se prendi la leggendaria io stacco anche subito il video, odio il... no, 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 tre gettore, sei scrausa anche te, dieci gemme verdi. Buuu. Ok, buuu per te. Allora, vediamo qui se... no, vabbè, dai. È brutto questo, io non lo voglio. Sì, sì, è bello, vai, dopo lo cambiamo, dai. Mentre devi partire col cursore in avanti, tieni il telefono in una maniera consona, con due mani. Uno facile, per favore, grazie. Ora hanno messo anche una nuova, quella della lava. Facile? No, quella lì che è passata ora, difficilissima. Sì, tocca me la guppa. Eh, questa è difficile. Stai ferma e aspetta che gli altri... Che gli altri... Aspetta che gli altri si suicidano. Si suicidino. Si suicidino. Sì, mi ti stanno spingendo. Ah, aspetta. Aspetta, dove vai? No, 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 aspetta, scarica prima. Eh, vai sul verde, vai sul verde. Ah, butti avanti gli altri. Eh, ma te non andare nel buco, te sei quello lì verde. Ma perché curi? Ma che ne sono? Vai, vai, vai. Ma che casino? Guarda che puoi saltare e volare. Oddio, ma non di sotto. Vai, non ti confondere. Maro. Un attimo, un attimo. Dai, dai, che è la prima... Ma dove vai? No, ascolta. Io, allora... Hai perso. Sono partita a carica. Sì, ma di là devi andare. No, ascolta, non mi va il dito. Non è colpa il mio gioco. Ma come non ti va il dito? Ti giuro. La scusa è buona, hai perso. Vabbè. Dai, partire un'altra volta, riprova. Su. Dai. Eh, vada, sei andata di sotto ora, visto? Te lo giuro, ero carichissima all'inizio. No, adesso mi impegno. Sì, ciccio. No, 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 da vero. Partire. Vai, vai. Riscuoti. È lui che mi porta a sfida. E allora cambialo. Oh, e voglio cambiarlo. Vai, personalizza. Lo scelgo io. Prendi quello che ti pare, vai. Lo scelgo io, lo scelgo io. Ma usa quest'altra mano, ma perché usi qua di là? Oh, no. Ma scusa, voglio la principessa. Vai, la vuoi con il muso rosso o con il muso bianco? No, no. Eh, colore, no. Colore. Oh, ma. Ma perché? Ma non l'hai messa la principessa? Ma mi fa cascare anche le cuffie. Vai, qui schiaccia. Usa. Sono schicchi use. Oh, colore. Bianco. No, non voglio viola. Viola, bella. Ma. Vabbè, usa. Usa. Vai, ok. Che c'è rumo? Ma non sei buona. No. Vai. Avevamo detto che ci sarebbe, avrebbe fatto le prove. Sì, mi sono impegnata tantissimo. Sì. Mi sono allenata tutti i giorni. Sì. Oh, questo che l'altra volta ho perso. Vai, vediamo subito cosa succede. Perderò. Subitissimo. Pronti? Via. Senza via. Vai sulla destra. Dove sono? Ti vedi dove sei. Ma corri anche piano proprio. Come faccio? No, ascolta. Corre veloce c'è anche l'opzione di correre veloce. Sì, se lo tiri più su va più veloce. Spingilo quello a fare. Ah, spingilo. Ma questo cosa mi prende per i fondelli. Dai, vai, salta e vola, salta e vola, salta e vola, salta e vola, perché vai più veloce. Milu, chi ti ha aspettato? Dai, uno dei tre. Salta e vola, salta e vola. Salta e vola, salta e vola, no. Di là, vai di là. Vai, salta e vola, veloce. Veloce. Addio. Ah, qua al mo' le prendo. Non è vero. Prendo botte. Non è vero. Prima. Seconda. Ah, ma non mi manda all'inizio. No, non ti manda all'inizio. Però è finito, c'è un'altra volta. Fai partite. Partire. Vai. Riscuoti quello che hai preso. Niente. Niente. Gioca. Nemo. Eh, aspetta. Tagliamo dopo. Sì, c'è. Quando viene la X, schiaccia la X. Ma perché non usi la mano di qua? Perché la sto tenendo qua. Non mi confondere, che già faccio farlo. Gioca. Dai, su. Fai vedere, non ti pisciare sotto. Fai vedere che... Dai. Tieni il cursore già in partenza, anche se non c'è ancora il cursore. Ma io non ho capito come fa a correre veloce. Più sottili e più va veloce. Eh, ho capito, ma non mi trovo bene col cursore. Vai, questa è facile. Dai, è una delle più facili, queste. Vabbè, ok. Vai su quel cursore. E poi perché non mi fa mai partire per prima? Perché perdo sempre. Perché lo lasci quando dice via, te lasci il cursore. Perché? Perché... Sei ultima, allora vedi che sei ultima. Vedi che non va. Oddio, dopo ne faccio una io, eh. Guarda. Non sono capace. Subito il martello nei denti. Dai, stai defo... Dai, 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 dai. Allora. Vieni che se ti appiccichi al muro. Ti rallenta il muro. Ah. Eh, vabbè, ma almeno non piglio botte. Eh, no, sta a vedere, eh. Tac. Dai. Io ti giuro che ero carica. Eh, anch'io. Ma schivalo il martello. Ma papà, non mi può dare una spinta, no. Dai, vai, 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 vai. Su, 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 su. Su, 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 su. Salta e vola in mezzo. Buttati in mezzo. Brava, così. Oh, va che brava. Ma vai, su. Ma perché? Ne faccio una io. Voglio provare. Allora, mi tieni questo un attimo. Mettimelo nell'orecchio. Va bene, dai, proviamo così. Allora, proviamo a vedere. Magari è il cursore che non va bene, eh. Ma non vale, però, eh. Ci sta, ci sta che sia il cursore che non va bene. Poi mi stai diffamando. Allora, però io la principessa Viola. No, no. Ma io non è che sono bravo, eh. Cioè, a volte mi va bene, a volte mi va male. Proviamo. No, sono proprio io una schiappa. Cioè. Che non capisco come funziona. Avevi detto che lo scaricavi e lo provavi, no? Ah. Guarda, cursore a manetta. Diciamo a tutti. Poi salte e voli. Vedi che passiamo subito avanti a tutti. Salte e voli, salte e voli. Sì, vabbè. Salte e voli di qua. Vedi, scrivi il martello. Vai di sotto, scrivi le palle. No. Salte e voli. Non mi viene. Ora te vai di qua. Perché vedi che le fredde sono... Fammi arrivare prima, per favore. Ah, fammi, è mio. No, è mia lei. Quella bionda. Ma dov'è bionda, eh? La viola. Anche la daltonica, sai. Vedi? Salte e voli. Allora questa va di là. Quindi te vai qua. Lo aspetti. Salti e voli di sotto. No. No, vabbè, ma mi ha fatto rinascere qualcosa nei denti lì. No, no. Dai, 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 dai. No, vabbè. No, ho sbagliato io, sì. Ma non puoi farmi perdere, ti ho detto. Devo vincere. No, hai visto? Sei bloccato lui ora, dai. Eh, vabbè. Ma qua è la tua connessione, eh, ciccio. No, no. Diamo la colpa sempre agli altri. No, 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 no. Ce la faccio, ce la faccio, ce la salte e volo, salte e volo, salte e volo. Qualificato sedicesimo. Oggiglio. Proprio una botta di quadrifoglio. Ma guarda dove siamo. In alto a sinistra. Vedi? Una botta di quadrifoglio. E balla. Vabbè, ok. E il primo l'abbiamo passato. Dai. Quanti devi passarne? Tre. Ora siamo rimasti in sei. E il terzo lo faccio io. Sì, c'è, po' po'. Dai. Non ci arrivo, ma se ci arrivo lo faccio io. No, semmai ne fai un'altra dopo Dai, su, su, su Ma voglio provare le brazza di vincere Il parabrezza provi te Guarda, te non lo tieni sul cursore Eh, ma dove va il tuo dito? È uguale Ma mica lo devi tenere per forza Ho capito adesso Te lo giuro Attenzione ragazzi, ha capito Quando la donna capisce Bello, dopo ne faccio una E ti faccio vedere che ho capito Ecco, dopo ne fa una E ci fa vedere che ha capito Davvero Dai, salta e bola No, 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 no Guarda, fa anche la piruletta, guarda Dai, parte il tempo Parificato, ora c'è l'ultima Che potrebbe essere Quella che faccio io No, che fai quella dopo Uffa Non vinco, tanto non vinco Ah, adesso arriva il primo e buona Ecco, ora siamo rimasti in otto Vedi, si qualificano in otto È rimasto solo il primo Ora in otto fanno tipo i laser O se mi dà la vacuna nuova Non la so fare, non l'ho però mai fatta Però Ma deve arrivare solo il primo Gli altri non i pagano Eh no, no, non pagano neanche il primo Non è che hanno soldi Ma cosa stiamo giocando a fare? Ma così Punti, certo Punti, punti No, i soldi Oh, questa una volta l'ho vinta Non so come ma l'ho vinta Questa è difficile No, ho già visto Questa è difficile Non so come ma l'ho vinta Non ti sconcento sto zitta No, no Parla, parla No Oddio Che ansia Ma io c'ho l'ansia Frema Va, 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 va No, io avevo fermato però Vabbè, ma ciccio, dai Non uccidermi la mia principessa Mi passa solo il primo, eh Beh, ho capito Ho sbagliato Ho sbagliato No, ma ha spinto questo qua Vabbè, tu hai spinto lui No, no Il poliziotto No, perché salto Niente, dai, è finita Morti Ecco Così ti impari A prendere in giro me Morti, morti Morti, morti Dai, dai, non è detto No, come non è detto Sì Salta Salta e vola Salta e vola Non mi lo dire che mi distra Eh, non salti Ho perso No Vabbè, ma io ho capito Allora, ha capito ragazzi Allora Davvero Mettiamo i Vai Vai, vai L'ultima poi giuro L'ultima poi Non ne vado Sconfitta Dai, se passi già la prima Sarebbe già molto buona Come cosa Dai, dai Intanto ragazzi Vi ricordo di iscrivervi al canale Commentare Attivare la campanellina Per non perdervi nessun video Sì, questo è lo passi Sì Condividete il video Con i vostri amici Pronti via Tutta a manetta Vai Salta e vola Di qua Ma torna indietro Ancora Salta in cima Lì Vai su Vai su Vai su Vai su Vai su Ma spostati Merlino Ma spostati te Vai Ma no No, vabbè Non ci risalirei più Non ci risalirei più Non ci risalirei più Lì sopra Aspetta Come si fa qua Vai, vai ora Vai ora Salta e vola Ok Ora aspetta che si alza la pedana Ma forse devo andare piano Vai, vai Di là Ma perché vai in quella alta Perché volevo andare lì Ero già di a destra A me l'ansia mi fa venire Il respiro mi togli Davvero Dai vai di lì Dai salta Ma non è facile Perché va troppo veloce Ma no Ma vai dritta Ma perché aspetta Oddio Dai, dai, dai Ancora, ancora Salta e vola Salta e vola Ancora Salta e vola Salta e vola Sul blu Devi fidare di me Curva 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 ancora Oddio Oddio Aspetta che salta Vai salta ora Vai nel mezzo Vai in mezzo Veloce Oddio Veloce Oddio Oddio No, no, no Ora salta e vola Sul tappeto Salta e vola Vola No, sono volata giù Devi far partire Dal zero Va bene ragazzi Ha provato E riprovato anche troppo Per questo video è tutto ragazzi Noi vi salutiamo Mi raccomando Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao 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 Grazie.